benvenuti in un'altra puntata di javascript in pillole una breve serie dedicata all'approfondimento di argomenti comunque la spiegazione di argomenti topic e concetti che possono migliorare la nostra comprensione quando ci approcciamo a react oppure per alcuni dare quella base abbastanza solida di media pattern di utilizzo comune all'interno di quelli che sono i principali framework nel mio caso di core act perché io ho un corso di react l'argomento di questa pillola sono le differenze che ci sono tra i metodi index of find index e find che sono tutti i metodi che possono appunto iterare un array ritornando differenti elementi il primo che andremo a trattare e index of index of ritorna quello che è l'indice di un determinato elemento ricevendo l'elemento come parametro quindi se io volessi avere con index of uguale avrò array semplice dot index of ok semplice dot index of mettiamo il valore che voglio cercare e metto 6 vado con sul logare index of e ottengo 5 che è esattamente l'indice a cui corrisponde il valore 6 perché l'ho utilizzato all'interno di array semplice e non in array iniziale perché se io andassi appunto a definire quello che è index of su array iniziale ecco che io posso solo unicamente andare a passare un valore e quindi qualora io passassi 6 e restituisce meno uno perché sia index of che find index quando la condizione non è soddisfatta quindi nessun elemento all'interno del re che si va a iterare soddisfa la condizione o comunque uguale al valore che gli viene passato allora ritorna meno uno e in questo caso andare a passare un valore diventa abbastanza abbastanza complesso ed è per questo che per questo tipo di ricerche ricerche avanzate si utilizza find index che si comporta esattamente come index of ma la differenza è che const trova indice uguale prendiamo magari in questo caso un id che gli passeremo in maniera dinamica e quello che farà sarà const index uguale array iniziale find index quello con le differenze dall'index off e che find index accetta come primo parametro quella che è la callback function che ci permette di accedere al singolo item all'indice dell'elemento che stiamo passando e al completo array che stiamo iterando e quindi ci permette di avere delle ricerche più avanzate ovviamente sia index soft attenzione che find index ritornano il primo elemento che soddisfa la condizione o che corrisponde al valore che gli viene passato nel caso di index off quindi io qua vedete che volontariamente i nostri niente due che hanno ai di uguale 3 ovviamente cosa che non dovrebbe succedere potrebbero esserci due parametri di ricerca che sono identici e quindi potremmo dover avere un tipo di richiesta più 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 profonda allora come vedete entrambi ritornano il primo valore dopodiché si dichiara quella che è la condizione ho predicato che vogliamo che venga soddisfatto quindi avere che item dot id sia uguale o uguale a dei di e allora adesso andiamo console dot logare index quindi passiamo trova indice e gli diamo come valore 3 come vedrete lui andrà a trovare la posizione numero 2 facciamo che questa cosa qua ritorna index e quindi noi diciamo che vogliamo iniziale trova indice se sta roba qua re iniziale di trova indice ok console dot log ci siamo perfetto andiamo a salvare e come vedete noi otteniamo quello che è il primo tra i due valori se appunto andassi ad avere questo che a 3 otterremo questa volta mascherina questo è molto importante da tenere presente volessi semplicemente ottenere l'ultimo mi basterà praticamente un reverse del dell'array che al quale sto lavorando in questo modo ottengo mai ma semplicemente perché ho ribaltato la re attenzione che questo metodo muta la re in restituisce un nuovo reference come che non fa niente adesso questo array sarà al contrario ma qualora appunto io volessi specificare ancora di più il mio predicato posso dire che ai team dottetti deve essere uguale uguale a zero quindi deve essere pari e quindi in questo caso vado a trovare maglia perché mi permette di avere un predicato più avanzato e di fare una ricerca molto più dettagliata ovviamente qualora andassi a porre una condizione che che non soddisfa niente otterrò meno uno in questo caso tengo andefine perché qua e trova indice di meno uno ma se io andassi a con sul locale semplicemente trova l'indice di 3 otterrei meno infatti ottengo meno uno metodo molto utile per semplicemente controllare se un determinato elemento sia presente all'interno del nostro nel caso di ottenga un valore maggiore di meno 1 dire che l'elemento c'è allora ottenessi meno dire che non è presente ad esempio dovesse decidere se inserire un elemento piuttosto che non oppure schippare passare al prossimo ecco che sicuramente questo è un ottimo metodo controllare che l'elemento sia presente solo almeno una volta all'interno della mia del mio array della mia lista ipoteticamente passando invece a quello che è il find method find method invece si comporta esattamente come find index quindi trova elemento solo che a differenza di find index non restituisce dice ma restituisce l'intero elemento che soddisfa alla condizione anche lui accetta anche lui accetta un una call back function quindi prende item e tutti i suoi amichetti e ci permette di definire quello che è un quello che è un predicato e al soddisfarsi di questo predicato restituirà l'elemento quindi se io qua andassi ad avere console dot log di trova elemento passando di questa volta 3 se io vado ottengo un defined perché l'elemento ovviamente non esiste visto come una condizione è insoddisfacibile vado a posizionare 0 ottengo maglia della juve ok questo è la differenza tra questi metodi la differenza di utilizzo è molto più dipende molto più della casistica nel caso avesse un array di questa tipologia comunque molto semplice in cui posso ricercare il singolo valore posso utilizzare index off volessi partire dal fondo li ho anche last index off nel caso avessi bisogno di avere una ricerca più avanzata ma magari il mio interesse è solo quello di andare a controllare se l'elemento sia presente all'interno di una determinata lista allora find index utilizzato per controllare che il risultato di index sia diverso da 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 meno uno per controllare appunto che sia presente o no è un'ottima soluzione piuttosto che andare a cercare l'intero valore e restituire l'intero valore sicuramente ci risparmia della memoria e sicuramente la soluzione ottimale nel caso il problema fosse quello invece abbiamo bisogno di ritornare un elemento specifico di ricercare un elemento trovarlo e restituirlo allora non c'è scampo che bisogna utilizzare find perché ci ritorna direttamente l'elemento e il codice comunque è molto più più semplice ed immediato grazie grazie